commenta il fatto del giorno enzo d'antona direttore del piccolo lucrezia borgia l'archetipo della donna del rinascimento lucrezia borgia possiamo definirla la donna che non avvelenò mai nessuno perché c'è una enorme divaricazione tra la realtà tra la vera lucrezia borgia è la leggenda il mito di lucrezia borgia che è arrivato fino a noi che è diventato diciamo un mito della grande avventuriera rinascimentale il vito il mito di una velenatrice dovuto poi a un dramma scritto da victor hugo a metà dell'ottocento e addirittura è diventata negli anni 70 un emblema erotico in vari film ma chi era in realtà lucrezia borgia questi innumerevoli matrimoni di cui appunto un po si favoleggia nella leggenda questo suo ruolo di fama fatale ecco non corrispondono al vero cioè lei andò ebbe tre matrimoni andò sposa già tredicenne quindi in realtà lei fu in qualche modo e fino a una certa età la vittima delle delle alleanze delle mire del padre che era il papa alessandro sesto e del fratello cesare borgia ecco in in quel contesto lucrezia si ritrovò ad essere un oggetto di scambio nelle alleanze interne e alle questioni dinastiche italiane e comunque a quando diventò duchessa di ferrara duchessa moglie del duca d'este dimostrò invece tutte le sue qualità politiche oggi dovremmo celebrarla come una delle più abili donne forse la prima donna protagonista della politica della buona amministrazione perché per lunghi periodi amministrò amministrò da sola il ducato circondandosi anche di uomini di lettere di cultura forse oggi noi non leggeremmo ariosto non conosceremmo pietro bembo se lei non avesse fatto tutta una una grande attività di mecenatismo e e alla fine a soli trent'anni diventò molto religiosa indossò il cilicio e morì insomma a 39 anni qualche anno dopo dopo essere stata considerata ha molto amata ferrara ed essere stata considerata anche una benefattrice perché fondo anche il monte di pietà e continuamente sosteneva i poveri un po' un po' un po' un po' un po' un po'